Atisha, la meditazione del cuore. Siediti in comoda posizione. Ascolta il tuo respiro. Ascolta il tuo corpo, qui, ora, prendendoti questo spazio e questo tempo solo per te. Senti ogni sensazione. I suoni, i rumori, gli odori e i sapori. Ogni sensazione della tua pelle. Il contatto con i vestiti, con l'aria, con la base d'appoggio. Immagina di osservare il tuo corpo e l'ambiente, anche con l'occhio della tua mente, se preferisci stare occhi chiusi. Lascia che il respiro entri ed esca dalle narici, in modo completamente naturale, senza forzare. E osserva tutto ciò che senti con i tuoi cinque sensi, senza giudizio. Il cuore è la porta alchemica. Immagina di portare l'attenzione e il respiro nell'area del torace e del cuore, come a respirare in quell'area. Apri il tuo cuore. Senti che si sta purificando. Il cuore è la sede della trasformazione. È l'organo di luce che rende possibile il passaggio dalla sofferenza alla beatitudine, attraverso l'amore. Immagina che attraverso il respiro nell'area del cuore, aumenti la luce, come una luce bianca o verde smeraldo, che pervade tutta quell'area e diviene sempre più luminosa. È il tuo stesso cuore che si sta aprendo e nutrendo della sua essenza naturale, della sua condizione per la quale è già predisposto, l'amore incondizionato. Visualizza davanti a te la situazione, la persona o qualsiasi evento o cosa che vuoi trasformare. Immagina ad ogni espirazione di mandare luce dal tuo cuore a quella situazione, persona, evento. Inspirando, senti il tuo cuore illuminarsi di più. Inspirando, invia quella luce alla situazione, alla cosa, alla persona. Inspira, puoi pensare la parola amore. E lo stesso mentre espiri. Inspirando amore, nutri il tuo cuore. E espirando amore, mandi quella luce alla situazione che vuoi trasformare. Continua per alcuni respiri, lenti, tranquilli, immersi nell'amore incondizionato. E' un'amore 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 incondizionato. Senti ora già il tuo cuore più leggero, pieno di luce e osserva la persona o la situazione piena di questa meravigliosa luce, pace, amore e lascia che sia senza portare desiderio o intenzione ma solo inviando la luce dell'amore lascia che questa alchimia di trasformazione continui per il resto di questa giornata e finché sarà necessario e lentamente lascia andare l'immagine della luce che entra ed esce con la visualizzazione della parola amore lasciando che questa vibrazione continui a imprimersi e a lavorare e decidi in modo dolce, soffice, senza fretta di riaprirti piano piano all'esterno e andrai a farlo molto dolcemente soffiando dalla bocca come simbolo di riapertura all'esterno e andando a stiracchiare un po' i tuoi muscoli a sciogliere le articolazioni a fare qualche micro movimento prima di riaprire dolcemente il tuo sguardo e il tuo corpo e di riportare l'attenzione all'esterno con un atteggiamento di accettazione tranquillità non giudizio accoglienza Namaste